115 gare disputate in Mario Bres, un guerriero in campo, un grande amico fuori. Signori e signori, attenuiamo con un grande applauso, Chris Zemmoury Sorghers! Il medico sociale e sociale di tutti i portali consegna a Danus una fotografia di Borotta Bres con il compagno che sarà sempre uno di noi, Chris Zemmoury Sorghers!